I cento anni di Fellini in mostra al Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo, un vero e proprio viaggio nel mondo del cinema, tra oggetti di scena, foto e antiche cineprese che ricostruiscono così l'atmosfera del set del maestro del cinema italiano. Gran parte degli oggetti esposti provengono tutti dalla collezione di mio padre, come il 99% degli oggetti che compongono la collezione stessa del MUMEC. Per quanto riguarda la mostra di Fellini è stato tirato fuori, è stato riscoperto e restaurato anche molto materiale del campo ovviamente cinematografico, per quanto riguarda i macchinari, del campo della storia della fotografia, per quanto riguarda la valigia del direttore di fotografia, che è uno degli argomenti principali della mostra Cento anni di Fellini qui al museo e anche poi per andare a ricercare delle grandi curiosità e questo anche assieme alla Marinelli Effetti Sonori di Roma, che è l'azienda dei figli di uno dei principali rumoristi di Federico Fellini, che per l'appunto era Marinelli stesso. Il progetto del MUMEC aveva inizio previsto per il mese di maggio 2020, ma l'emergenza Covid ha costretto il rinvio a sabato 24 ottobre, data scelta per coincidere con la giornata mondiale UNESCO dell'audiovisivo. Da quando l'UNESCO è nata ha prestato un'estrema attenzione ai mezzi di comunicazione, alla televisione ma anche alla radio perché è più capillare e per quanto attiene gli audiovisivi l'UNESCO ha un'estrema attenzione perché è importantissimo per l'UNESCO che si conservi la memoria. L'iniziativa, che è inserita all'interno del Circolo delle Celebrazioni Ufficiali del Comitato Fellini Cento, proseguirà sino al prossimo giugno.